Tredicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Nemmeno davanti allo scandalo della croce, segno del giusto che è trafitto per le colpe degli altri, nemmeno davanti a ciò si ferma la logica ostinata e a senso unico dell'aggredito e dell'aggressore. E così nella guerra in Ucraina irrompe anche il caso via Crucis. Ieri ha lasciato di stucco il tweet dell'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, quasi un minaccioso avvertimento a desistere dal progetto sulle possibili conseguenze che due famiglie, una Ucraina e una russa, portino insieme la croce venerdì sera al Colosseo. In serata padre Spadaro ha invitato a leggere l'iniziativa di Francesco non da politico ma da pastore. Albina e Irina, le due donne che porteranno la croce, ha spiegato, non diranno una parola, nessuna richiesta di perdono, ma niente da fare. In tarda serata l'arcivescovo Shevchuk, a capo della comunità di rito bizantino, in comunione con Roma, bolla testi e gesti inopportuni e offensivi. Stamattina si aggiunge il nunzio, Monsignor Culbocas, sotto la croce siamo tutti figli di Dio, ma la riconciliazione solo se l'aggressore prima si scusa. Insomma, nuovo niente. Sotto la croce si sta insieme perché quando si fa una via Crucis, la si fa perché si vuole servire e seguire la logica del Vangelo. Quindi si vuole essere come Gesù, che non solo non ha creato divisioni, ma ha insegnato la pace, l'amore, il perdono anche per i nemici, l'amore anche per i nemici. Quindi, guardando lui che sulla croce ha avuto soltanto parole di perdono anche per i suoi uccisori, allora non solo possiamo portarla insieme la croce, ma dobbiamo portarla insieme.